Chateau d'Amboulet 1996 blan de blan 930 euro 930 euro Niente, non c'è più nessuna reazione Telefona Tra vent'anni Da quanto è che uccidi? Tutto il povericcio Il genio? Il tweet down Io adesso non so Abbiamo perdonato tutto, ma perdonato cosa? Il Rolex Il Souff Gli slip Simona Non so rispondere Fuma Sì, è l'unica che conosco che ha cominciato in gravidanza Il bimbo resta piccolo Farà infantino Avete già deciso come chiamarlo? Sì Bernardo È bellissimo come Bertolucci Ma il maschile di Bernardo Luca, Matteo, Paolo, come te? No Bruto? No Spingi quel coso Dai, più la mano Burrenic Non mi viene, mi arrendola Dai, dicelo Non sta scherzando? No Ma certo, questa scherzata Ma non scherzo affatto Ci piace molto È originale ma classico Perché? Non vi piace? No, non vi piace Simona, tu sei l'incarnazione della disfatta del nostro paese Stiamo a prendere lezioni da uno che ha chiamato i figli Pinn e Scintilla Parla! O parlo io? Parla con l'amore Hai dieci tweet Allora twittami sto cazzo Io mio figlio lo chiamo come mi pare, capito? No, non puoi Ciao mamma Come va? Benissimo Bella serata Tu pensi che io sia omosessuale? Non l'ho mai vista con una donna A parte beta Con beta tutto Anche le cerette Adesso lo dici Diggielo Non sono pronti Pronti a cosa?